I ROV, o Remotely Operated Vehicles, sono veicoli sottomarini filoguidati, pilotati da remoto attraverso un cavo ombelicale, la cui lunghezza può variare da poche centinaia fino a migliaia di metri. Il cavo ombelicale consente l'alimentazione del ROV e la ricezione dei dati video attraverso una postazione di gestione e controllo. Oltre alla camera principale, il ROV può essere equipaggiato con fotocamere e videocamere addizionali, per raccogliere fotografie e video ad alta risoluzione del fondale marino, superando così i limiti imposti dalle immersioni subacquee e può essere dotato di un braccio manipolatore per prelevare campioni biologici da analizzare in laboratorio. Dal 2006 l'ISPRA si avvale di sistemi ROV per lo svolgimento delle sue numerose campagne di esplorazione. Attualmente l'istituto è dotato di un veicolo robotico innovativo, in grado di operare fino a 500 metri di profondità. Grazie allo sviluppo della robotica marina, gli ambienti profondi stanno rivelando tutto il loro splendore, sebbene purtroppo l'impatto delle attività umane non abbia risparmiato neppure queste zone più remote. L'impiego della tecnologia ROV ha rivoluzionato le conoscenze della biologia marina. L'osservazione in tempo reale e dal vivo degli organismi nel loro habitat naturale ha rivelato ambienti del tutto inaspettati, consentendo di acquisire nuove informazioni sulla distribuzione e associazione delle specie, soprattutto di quelle che vivono in profondità e che per lungo tempo sono state studiate solo a partire dai frammenti raccolti dalle reti dei pescatori.